Una seduta a fiume del Consiglio regionale iniziata alle 11 di ieri mattina e terminata alle 10 di oggi, notte compresa, ma alla fine Paolo Frattura ha incassato il voto favorevole e compatto del centro-sinistra sul bilancio e sulla legge di stabilità. Punti salienti dei documenti contabili sono riduzione delle spese di gestione, snellimento della macchina amministrativa, introduzione del reddito di cittadinanza per contrastare l'indigenza dei soggetti più deboli finanziato con un milione di euro, reintroduzione dei vitalizi sotto forma di previdenza seppure ridotti di oltre la metà rispetto alla proposta approvata dalla Giunta e poi riforma della protezione civile con la costituzione di una nuova agenzia che si occuperà solo di ricostruzione, di Molise Dati e Fim Molise che diventeranno aziende consortili con la partecipazione della Regione, scioglimento della società Corai, novità impreviste ed eclatanti anche per Molise Acque inserita da Paolo Frattura in uno dei suoi tanti emendamenti. L'azienda verrà commissariata da subito in attesa del nuovo statuto e della successiva nomina di tre componenti del CDA al posto dei quattro attuali. Su questo c'è già chi parla di resa dei conti nel PD tra Paolo Frattura e Roberto Ruta, il quale in tempo di pace aveva indicato l'attuale presidente Piero Neri al vertice dell'azienda. Sull'emendamento di Molise Acque il capogruppo del PD Francesco Totoro ha abbandonato l'aula e l'assessore Massimiliano Scarabbeo non ha votato. Il governatore però ha escluso guerre intestine. Sicuramente è un modo per svilire una manovra finanziaria che ci ha visto impegnati per approvarla. Approvarla. Onestamente non c'è nessuna competizione, non c'è nessun contraddittorio. Mi pare che già dalla finanziaria dell'anno scorso, se andate a rintracciare, si parlava di una riforma dell'azienda Molise Acque, a distanza di un anno diamo contezza al programma fatto già nel corso della finanziaria dello scorso anno. Tutti i documenti di programmazione e contabili sono stati approvati. Quali sono le novità, presidente? Una importante attenzione alle fasce più deboli, lo abbiamo fatto sia con il reddito di inclusione per le fasce più deboli, sia considerando come ordine del giorno un accompagnamento nella modularità delle aliquote, proprio da applicare quali IRPEF alle fasce più deboli da una parte e dall'altra si comincia a vedere il Molise che riparte con risorse importanti stanziate proprio per lo sviluppo. Le minoranze hanno bocciato la legge di stabilità pur apprezzando, in particolare i 5 Stelle, Manso e Federico, l'introduzione del reddito minimo, vuoto contrario anche da Filippo Monaco e dai rappresentanti del centro-destra che hanno preannunciato iniziative giuridiche contro alcune riforme ritenute illegittime. Quello che più ci preoccupa è l'applicazione di alcune leggi di riforma collegate al bilancio stesso che determinano dei cambiamenti di alcuni enti importanti della regione, come Molise Dati, come la stessa Fin Molise, come il Corai, come la protezione civile, la nuova agenzia per la ricostruzione, ognuna di queste leggi prevede licenziamenti. La questione del lavoro va riaffrontata da capo e bisogna capire che oggi aggiungere un disoccupato a quelli che già abbiamo è un atto grave di cui la politica si rende responsabile. In questo senso abbiamo votato contro ma non esauriamo il nostro compito perché prepareremo, già lo stiamo studiando, anche un ricorso per alcune leggi che non abbiamo condivise e che credo siano anche illegittime. Resta critico anche il giudizio dei sindacati che hanno denunciato la mancanza di risorse per il lavoro e hanno confermato la manifestazione per il prossimo 15 maggio.